E' Giacomo Mattioli, 42enne fanese, manager aziendale e responsabile della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, il neopresidente del Centro Sportivo Italiano delle Marche. L'elezione si è svolta sabato scorso attraverso una videoconferenza alla presenza del presidente uscente Tarcise Antoniozzi, del presidente nazionale Vittorio Bosio, dell'assistente ecclesiastico nazionale Don Alessio Albertini, del presidente Coni Marche Fabio Luna e dei rappresentanti regionali di WISP e US Acli. Dopo otto anni come componente del Consiglio regionale, gli ultimi quattro come vicepresidente, ho scelto di dare continuità al mio operato, a chi aveva creduto in me in questi anni e per rappresentare anche il territorio provinciale di Peso Rubino a livello regionale. Quindi ho voluto rilanciare, mettermi in gioco e cercare di aprire nuove strade in questo quadriennio che ci aspetta. Mattioli ha già le idee chiare sul futuro per salvare lo sport in un momento difficile come questo, ovvero il dialogo con i territori e con la politica. In primis di mantenere e riallacciare dei rapporti sempre più stretti con la regione, con la regione Marche politica, per cercare di avere tutti i sussidi che le società sportive meritano in questo momento di stop per il Covid, ma anche di ragionare in prospettiva per rilanciare lo sport quando si potrà ripartire. È ancora troppo difficile per sapere l'avvio delle attività sportive, ha aggiunto poi Mattioli, ma cerchiamo di essere vicini a tutte quelle persone che non lavorano più da un anno e per rilanciare le attività appena possibile. Davvero similmente prima dell'estate sarà dura fare qualcosa. In quel momento dovremo essere pronti anche nel rispetto di tutte le nuove normative che ci potranno essere per ripartire chiaramente in un modo diverso da quello che abbiamo sempre conosciuto finora e quindi in questo momento un ruolo importantissimo lo gioca la formazione. Formazione, prevenzione e adeguamento al rispetto delle norme che arriveranno. passando donated a nära perché si tryntavano andengono a più di una soluzione. Avete avrei avuto l'azione che questa sono realizzata o quella del dividere quindi capito che pass iPod è buttato dal bipolar programma che arriveranno. Abbiamo fatto un'azione che tutto pianto abbılloffi non potete